La chiarezza credo che sia una cosa ineludibile, ottima, però per fare chiarezza bisogna conoscere gli elementi. Io vado ripetendo da tempo, da quando mi sono insediato, che su Corso Vittorio c'è bisogno, prima ancora di far chiarezza, conoscere e capire ciò che è stato fatto. Se stiamo alle carte, a ciò che ha realizzato la passata amministrazione, che ha fatto una semplice riqualificazione, Corso Vittorio Emanuele dovrebbe essere riaperta così come era precedentemente ai lavori. Non c'è né semipedonalizzazione, non c'è ZTL, non c'è nulla di tutto ciò. Se invece sto a quello che è l'asse viario attuale, soprattutto dopo quegli orpelli che sono nati con una variante, qualche problema in termini di sicurezza, serenità, funzionalità si pongono. Ed è quello che ci siamo posti. Abbiamo lavorato, abbiamo verificato quali sono gli elementi di possibile criticità e li stiamo affrontando. Credo che nel giro, entro la fine del mese di agosto, quindi il tormentone si concluderà alla fine del mese di agosto, dopo che avremo recuperato anche i soldi per fare la segnaletica, perché voglio precisare all'opinione pubblica che quel progetto è privo di risorse per fare la segnaletica. E siccome ci hanno lasciato un comune disastrato, li dovremmo andare a reperire da qualche altra parte. Quando avremo reperito anche i soldi per fare la segnaletica e quando a fine agosto avremo completato l'iter istruttorio, faremo una bella conferenza stampa in cui chiariremo all'opinione pubblica ciò che è stato fatto, ciò che voleva essere fatto e ciò che invece verrà realizzato. Del Vecchio si preannuncia un autunno caldo per i pescaresi con tanti cantieri aperti in città. Insomma, si rischia un traffico caotico sin dai primi giorni di settembre? È l'effetto di una cattiva programmazione. È l'effetto di una programmazione che ha tenuto conto forse più del periodo elettorale che non del periodo di vita dei cittadini di Pescara. Negli ultimi due anni si sono concentrati una miriade di cantieri che hanno di fatto reso un percorso di guerra circolare nella città di Pescara. Speriamo di poterne chiudere, non nel senso detto dall'opposizione, cioè chiudere per non fare, ma chiudere per completare alcune opere all'interno della città in modo da riaffidare un minimo di fluidificabilità al traffico, fluidità al traffico e in modo da fare sì che i cittadini possano vivere in maniera più serena e più tranquilla. Grazie. Grazie. Grazie.